Grazie a tutti. È un centro culturale. Queste opere d'arte è un peccato che restino chiuse soltanto o nelle sacristie o anche nelle chiese. Don Alessio a un certo punto dice ma allora facciamo una piccola mostra di capolavori della nostra parrocchia. Sì, abbiamo pensato ad una mostra di arte sacra in Carnia ed è così che è partito un po' il nostro disegno che in quel momento era un sogno.